Sempre i G3, stavolta con la seconda batteria. Anche qui partenza molto movimentata e subito gli atleti di fuori provincia davanti al gruppo a fare l'andatura. Qui vediamo l'ossanesga in testa seguito dai bresciani della Ronco, del team Valle Sabbia e della Valle Camonica. Ancora Ronco, Valle Camonica e Valle Sabbia davanti con l'aggiunta di Vanotti e Villongo che iniziano l'ultimo giro prima di concludere la loro fatica. All'arrivo bellissima volata vinta da Zanni Simone del team Valle Sabbia davanti a Giustacchini Dario della Ronco, Falgari Stefano della Vanotti, Murania Raffaele della Valle Camonica e Baldo Mattia della Mori. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS